Stefano De Martino Stefano De Martino, il bacio con Belen? L'amore fa sempre bene Stefano De Martino Belen Galeotto fu il bacio Tra Belen e Stefano De Martino sembra proprio esserci stato un riavvicinamento inaspettato In uno scatto si vede l'incontro delle loro labbra, puntualmente paparazzato e sparato in prima pagina sulle testate rosa Per chiarire come stanno le cose Mara Veniè ha invitato proprio il ballerino a Domenica in Stefano De Martino Belen, bacio che fa sognare Stefano De Martino presto esordirà nelle vesti di conduttore, scelto per condurre il programma comico Made in Sud Durante la puntata di Domenica intrasmessa Domenica 24 febbraio si è confidato con la padrona di casa Mara Veniè rivelando quali sono i sentimenti provati verso l'ex moglie Belen Rodriguez, nuova aggiunta come giudice a Sanremo Young . Secondo Stefano le persone vedono in loro un amore da favola e sperano in un lieto fine Perché tutti hanno un grande amore irrisolto e si rispecchiano nella relazione Ecco il perché dell'attenzione, quasi morbosa, per la storia . Nel corso dell'intervista, Mara Veniè mostra delle recenti immagini che vedono Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme in aeroporto mentre si abbracciano e si baciano . La prova per sia Mara che tra loro o no si sia mai davvero spenta la passione. . Il loro rapporto travalicherebbe pienamente i semplici confini di amicizia e complicità come genitori del piccolo Santiago. . In aggiunta, Mara confessa di essere molto affezionata a loro e si è dichiarata commossa nel vedere queste foto. . Stefano De Martino Belen, una empatia mai svanita. Malgrado lo scalpore destato, Stefano De Martino spiega che per lui non è affatto una notizia. Lui e Belen conservano ancora una forte empatia. . Quindi, prosegue sottolineando che non si è mai creato problemi nell'abbracciarla. E chi osa può solo fare bene. . Stefano aggiunge che Belen, da madre affettuosa, tende a essere un po' melodrammatica nel momento in cui deve lasciare il figlio. Ma non prende una posizione così netta e inequivocabile sulla relativa situazione sentimentale. . Stefano De Martino Belen, parole al miele. . Mediante una clip video per Domenica In, il giornalista e opinionista tv Alfonso Signorini paragona Belen e Stefano ad una storica coppia come quella composta da Albano e Romina Power. . Stando al direttore potrebbero costituire una relazione indissolubile e confessa che stanno lavorando per renderla sempre più solido. . Dopo il contributo, Stefano De Martino si lascia andare una dolcissima dichiarazione verso la sua storica compagna Belen Rodriguez. . È una persona che pare leggera spiega ma in realtà si lascia guidare dall'istinto e non gliene importa del giudizio delle persone. . Ed è una delle ragioni per cui l'ha scelta. . Infine, aggiunge che è una donna sensibile, oltre che onesta. . .